La crisi che non passa è il titolo del sedicesimo rapporto del Centro in Audi sull'economia globale e l'Italia, realizzato con il supporto di UbiBanca regionale europea. Il professore Mario De Aglio ha scelto di rappresentare l'attuale situazione mondiale come un castello di carte con le bandiere dei paesi stampate sul dorso. In cima alla torre c'è la Grecia, perennemente in bilico e sotto osservazione. Sotto la Grecia ci sono l'Italia e l'Irlanda, economie storicamente forti ma ora traballanti. Sotto ancora le grandi potenze europee che negli ultimi mesi ci hanno spinto verso le riforme, Francia, Inghilterra e Germania. Alla base del castello di carta sono posizionati i cosiddetti BRIC, Brasile-Russia, India e Cina, paesi emergenti che non hanno subito il peso della crisi e continuano a produrre un PIL a due cifre. A metà della costruzione, in una posizione che potrebbe far cadere tutte le altre carte, ci sono gli Stati Uniti, accusati di voler mascherare la crisi del dollaro screditando il potere dell'euro. Diciamo che l'euro è sicuramente molto frazionato, la criticità dei singoli paesi dell'euro, la Grecia, l'Irlanda, la Spagna, la stessa Italia, quindi può essere più facilmente attaccabile. Non dimentichiamoci che il dollaro è la prima economia mondiale e la prima potenza militare al mondo. In un momento così incerto le analisi ci invitano al duro realismo, tra chi guarda sconsolato il bicchiere mezzo vuoto e chi intravede un bicchiere mezzo pieno, gli economisti tendono ad affermare che il bicchiere sia semplicemente rotto. Gli equilibri geopolitici sono cambiati, l'asse portante dell'economia mondiale non è più quello Stati Uniti e Europa, ma Cina-Russia oppure Brasile e Sudafrica. Il consiglio quindi è cogliere la crisi come un'opportunità per evitare che arrivi quella che gli esperti chiamano la tempesta perfetta, ovvero la frantumazione della globalizzazione.